Un cordiale saluto e un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 segnaliamo un incidente avvenuto tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze, al momento senza ripercussioni sulla viabilità. Fare inoltre attenzione per ventoforte è segnalato sulla FIPILI, sulla A12 e sul raccordo Lucca-Viareggio. Sulla A11 l'area di servizio di Serravalle Sud in direzione Firenze è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Su raccordo Siena-Bettolle scambio di carreggiata per lavori tra Casetta-Monte Aperti e Castelnuovo-Berardenga in direzione Bettolle. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!